Secondo appuntamento stagionale con le mie Major League Baseball Review, è tempo dunque di tornare a parlare dell'MGDB, il meraviglioso gioco del baseball, sul mio canale sportivo, è tempo di fare già i primi bilanci dopo due mesi di stagione, ci sono già i primi valori in campo che stanno emergendo, ci sono già alcune squadre che possono essere definite come i flop di questo inizio di stagione, ci sono tanti altri episodi dentro e fuori dal campo di cui vale la pena raccontare, in particolare delle innumerevoli no hit che si sono sprecate, mi verrebbe da dire in questo mese primaverile del MLB, è una stagione che comunque ha ancora tanto da dire perché siamo alle circa 60 partite stagionali per tutte le squadre, il problema è che l'anno scorso queste 60 partite davano la fine della stagione scorsa e davano adito alle squadre di qualificarsi o meno alla postseason allargata, qui la postseason invece tornerà alla tradizione quindi con sole 10 squadre su 30 qualificate, ma è anche vero che 60 partite sono un primo assaggio di una stagione lunga fino a ottobre, in ogni caso siamo pronti ad analizzare quello che è successo dentro e fuori dal campo sulla MLB, una stagione MLB che vede già le prime squadre lanciate verso quantomeno una stagione positiva, ma vede soprattutto come dicevo all'inizio uno proliferarsi incredibile di no hit, ovvero tutte quelle partite dove il lanciatore della squadra che poi andrà a vincere la partita non considera neanche una valida ai lanciatori avversari, abbiamo visto no hit di nomi molto importanti, vedi per esempio quella di Corey Kluber del New York Aggies, peraltro notizia di recente che Corey Kluber si è infortunato e starà fuori per almeno due mesi dalla squadra di New York, fa molto specie però come soltanto nel mese di maggio ce ne sono state soltanto 6 di no hit, addirittura 6 in realtà è il termine più corretto e siamo di fatto a un passo dal record storico, il record storico della storia del baseball moderno è 7 e fu del 1884, siamo nel 2021 e solo nel mese di maggio ne abbiamo avuto 6, di cui 3 sono di nomi veramente veramente improbabili, perché potete dirmi tutto quello che volete ma io sfido chiunque appassionato di baseball guardi questo video di dirmi se aveva previsto che Wade Miley, John Mays e Sperson Turbol avrebbero fatto una no hit per la loro squadra sono diciamo lanciatori più o meno non aspettati, Wade Miley probabilmente dei tre che andrò a citare è il lanciatore con più palmeresse, se di palmeresse possiamo parlare perché di fatto è un lanciatore molto esperto, Wade Miley è alla seconda stagione a Essence Andati Rez, squadra che come vedremo non sta navigando in acque felicissime della classifica, in ogni caso le statistiche sono interessanti perché una media IRA o PGL per dirla italiana di 3.26 è comunque buona, certo è molto condizionata dalla no hit fatta appunto agli inizi di maggio per risollevarla, ovviamente le statistiche di questo grande veterano che ha avuto un passato con Arizona, un passato con Boston ma non aveva mai espresso tanto potenziale, eppure Wade Miley è riuscito a fare una no hit fondamentale per Essence Andati Rez, squadra che ha avuto un passato glorioso ma che al momento sta navigando in acque bassissime in una National League Central abbastanza competitiva e tra poco vedremo perché. L'altro nome inaspettato viene da una squadra in puro tanking che sono i Baltimore Orioles, squadra che mi sta simpatica semplicemente perché hanno i colori sociali della mia squadra di Slow Peach, ovvero una squadra arancionera, John Mainz è comunque un lanciatore dove effettivamente c'è del materiale buono, ma non per questa stagione, anche se le statistiche sono dalla sua parte, ma in particolar modo per il futuro. Il classe 93 americano John Mainz ha sempre giocato per i Baltimore Orioles, squadra che ormai da 4-5 anni sta facendo tanto tanking e sta cercando di rifondare e trovare dei futuri campioni per rilanciarsi. Ricordiamo che comunque Baltimore ha avuto nel suo roster Manny Machado e Chris Davis, per dire due giocatori di un certo livello. John Mainz è sicuramente un giocatore che in questa stagione sta sicuramente avendo le migliori prestazioni della carriera, perché 4 vittorie e una sola sconfitta e una squadra che è francamente una delle peggiori della Lega e fanta ultima nella American League East, insomma effettivamente è un materiale buono su cui lavorare. 2-0-5 la media di Mainz è assolutamente incredibile e quindi buona fortuna ai Baltimore Orioles per ricostruire una stagione e delle stagioni buone e ovviamente il giocatore con la maglia numero 47 è uno degli indiziati insieme magari ad altri giocatori un po' sulla rampa di lancio. Vedi per esempio Anthony Santander e c'è un altro giocatore su cui Baltimore deve ripartire, ma di lui ne riparleremo dopo in una parentesi a parte. Il nome però più clamoroso, ma al contrario, che ha fatto no hit è sicuramente però quest'uomo di Detroit, Spencer Turbol, 28 anni per lui, è un prodotto dell'Alabama, un prodotto che però aveva stentato nelle primissime stagioni della Lega, perché nel 2019 era risultato statisticamente il peggior lanciatore della Lega e per peggior lanciatore della Lega intendo quello che aveva accumulato il maggior numero di sconfitte, ben 19, ed è effettivamente abbastanza strano che una no hit venga da Turnbull, un lanciatore che comunque non sta avendo una stagione malvagia, perché quest'anno parliamo di 4 vinte, 2 perse, media PGL di 2,93, ma parliamo di un lanciatore, non propriamente un fenomeno, che comunque da anni è una delle squadre peggiore della Lega, perché anche i Detroit Tigers, un po' come i Baltimore Orioles, se ne stanno un po' giocando, diciamo, a chi è la squadra peggiore di questi ultimi anni. In ogni caso, la partita che appunto ha risaltato la carriera di Turnbull, mi verrebbe da dire, è appunto quella contro Seattle, che tra l'altro insieme a Cleveland e Texas è una delle due squadre che ha subito una no hit per due volte nella stagione, quindi è abbastanza incredibile, appunto contro Seattle soltanto due basi buon hanno viziato addirittura il perfect game di Turnbull, che di fatto è un nome molto casuale se vogliamo associare una prestazione straordinaria, come l'hanno hit a un perfect game appunto dagli lanciatori di know-how più alto. Poi nelle partite successive, appunto sia contro i Cleveland Indians che contro i New York Yankees, abbiamo avuto prestazioni comunque di più livello normale, veri per esempio quella con Cleveland dove ha subito 3 punti e 7 valide, molto meglio quella con gli Yankees dove appunto ha vinto anche la partita con 5,2 inning lanciati, 3 valide concessi e soltanto un punto pagliato su di lui con addirittura 6 strikeouts. Comunque Turnbull è già uno degli outsider di questa stagione e un giocatore che appunto andava specificato per questa grande impresa in un mese di maggio che in generale è passato alla storia per questo no hit e in generale per le prestazioni dominanti dei lanciatori. La MLB ha lavorato, va detto, per modificare le palline e i maligni dicono che appunto queste palline siano state create apposta addirittura per favorire i lanciatori dopo stagioni dove effettivamente gli attacchi dominavano e i lanciatori erano molto meno un fattore. In realtà è una tesi abbastanza originale che in ogni caso non è da dire come cosa effettivamente voluta, va detto che effettivamente gli attacchi stanno però peggiorando perché tante partite che vedo anche in diretta su Sky finiscono o con punteggi risicati o con spesso delle formazioni che non siano manco un punto sul tabellone. Faccio un esempio dell'ultima serie che ho visto su Sky, quella tra Los Angeles Angels e Oakland A's. Le prime due partite i Los Angeles Angels hanno segnato soltanto un punto e Oakland poi ha vinto di comunque pochi punti perché ha segnato se non sbaglio tre punti nella prima e quattro nella seconda. La terza partita della serie, quella che è stata trasmessa sabato su Sky, ha visto gli Angels trionfatori per 4-0 sfruttando semplicemente un beginning da quattro punti. Segno che effettivamente il lavoro dell'MLB c'è stato per tentare probabilmente di equilibrare attacco con il Monti di Lancio. Evidentemente in questo mese di maggio i Monti di Lancio hanno avuto la meglio ed effettivamente gli attacchi ne stanno risentendo. Vedremo se effettivamente anche nei giorni successivi e nei mesi successivi a questo mese di maggio ci sarà un cambiamento da questo punto di vista. Fatto sta che comunque, nonostante queste spropositate no hit, il mese di maggio dà comunque dei primi valori in campo e possiamo già dare a quantomeno dei primi giudizi su chi possono essere le sorprese e i flop di questa stagione. E vedendo le classifiche tra un po' ne parliamo. Partiamo allora dalle analisi delle classifiche delle varie divisione partendo come al solito dall'American League East. Vediamo in prima posizione Tampa Bay, una Tampa Bay che è finalmente sbocciata, una Tampa Bay che era partita piano nel primo mese di stagione che va detto conta molto poco. Qui però nel mese di maggio i Reyes hanno messo la quinta e accumulato una serie di vittorie straordinarie. Nelle ultime 10 sono 8 vinte e 2 perse, un record di 35 vinte e 21 perse. È il primo a lungo della squadra di Kevin Cash che sta sempre sposando la sua filosofia del vendiamo sì pezzi migliori. Vedi per esempio Blake Snell che è andato ai Padres ma comunque costruiamo una squadra di livello con ossatura solida che può competere effettivamente con squadre tipo i Boston Red Sox e i New York Yankees non solo in ottica division ma soprattutto in ottica playoff. Ed effettivamente questa politica sta pagando. I Reyes sono primi con 35 vinte e 21 perse e sono indubbiamente una delle squadre migliori del mese di maggio. Stesso discorso per Boston perché è seconda. La formazione del Massachusetts ha due partite di distacco, 32 vittorie con 22 sconfitte. Non sono più la squadra che è partita in quinta, va detto che probabilmente hanno scalato una marcia ma sono comunque secondi con due partite di distacco dai Tampa Bay Rays e due partite mezza di vantaggio sui New York Yankees che hanno avuto per la verità tantissimi infortuni ma che comunque sono in linea di galleggimento ancora una volta con 30 vittorie e 25 sconfitte. Appena sotto ci sono i Toronto Blue Jays di cui parleremo perché sono una squadra molto interessante da vedere, la squadra dei figli d'arte, l'abbiamo chiamata così già nello scorso video e ribadiamo il concetto perché appunto i Blue Jays hanno quattro figli d'arte in rosa, per esempio Vladimir Guerrero Jr., Cavambiggio, Bobby Shett, per dirne altri, anche Lutz Courriel se vogliamo invece espatriare fuori dal baseball americano. È una squadra di giovani, di giocatori molto forti che probabilmente è difficile che arrivi già ai playoff in questa stagione ma per il futuro occhio a Toronto perché appunto dispone di giocatori fantastici, vedi per esempio Bobby Shett ma soprattutto dispone di Vladimir Guerrero Jr., il canadese figlio del leggendario Vladimir Guerrero Sr. sta facendo una stagione allucinante, ha avuto un mese di maggio pazzesco che lo sta consacrando come leader assoluto dei fuoricampo della Lega. Infatti il canadese Vladimir Guerrero con 17 super pepi è il primissimo fuoricampista della Lega con appunto una quota che non hanno raggiunto altri giocatori, vedi per esempio Otani, vedi per esempio Fernando Tatis. Guerrero sta trascinando i Toronto Blue Jays comunque una stagione positiva. Il problema è che Toronto è inserita in questa division tremenda che è l'American League East perché come vediamo tornando indietro alle statistiche di poco fa il record è ampiamente sopra il 50% di vittorie sono 28 vinte e 25 perse ma siamo quarti in questa division quando magari in altre division la squadra canadese sarebbe quanto meno nei primi posti dove effettivamente un roster del genere può assolutamente competere. Peraltro i Toronto Blue Jays hanno avuto una bella notizia da Buffalo che sarà il loro nuovo campo di casa e per la verità è un ritorno rispetto alla stagione scorsa sapete oramai come le frontiere del Canada siano chiuse e i Toronto Blue Jays di fatto non tornino in Canada da un anno e mezzo sostanzialmente le prime partite della stagione i Toronto Blue Jays le hanno effettuate nel loro campo di sprint training in Florida che di fatto è un piccolissimo stadio che contiene 2000 e poco più spettatori ci sarà poi finalmente l'upgrade per tornare a Buffalo New York uno stadio che in realtà ospita già la squadra del AAA affiliata alla formazione canadese dunque già un buon passo avanti per una squadra che a me francamente sta molto simpatica e che comunque da tanti anni sta cercando di tornare ai livelli dei playoff del 2016-17 e attenzione appunto a Toronto anche per il fattore campo quando poi le frontiere del Canada riapriranno e potranno tornare al Rogers Center di Toronto-Ontario qui concludiamo intanto la classifica dell'American League East con appunto la squadra che dicevamo prima in tank in puro ovvero Baltimore che appunto già la division è quella che è molto competitiva i Baltimore Orioles sono l'unica squadra che in questa division al momento non c'entra niente una vinta e nove perse nelle ultime dieci segno che appunto al di là di John Means, al di là della prima scelta assoluta presa qualche anno fa Edwin Roosman e di qualche giocatore futuribile come ho detto prima Anthony Santander i Baltimore Orioles sono assolutamente una squadra che sta rifondando e speriamo di poterla rivedere competitiva nei prossimi anni c'è però una storia bellissima da raccontare per quanto riguarda la formazione del Maryland ed è quella di Trey Mancini un giocatore incredibile soprattutto per prestazioni offensive in questa stagione è stato a lungo il leader degli RBI della Lega gli RBI per chi non conosce il gioco del baseball sono i punti portati a casa dalle battute valide del giocatore in questione in questo caso Mancini ne ha portate a casa 44 ci sono anche 11 fuori campo e nel media battuta di 284 le statistiche però in realtà sono a maggior ragione significative in questo caso perché Trey Mancini ha lottato contro una brutta malattia ai testicoli è riuscito dopo un anno e oltre di chemioterapia a tornare in campo ed è la storia più bella che si può raccontare di questo tipo le statistiche coroniano la lotta del giocatore statunitense di lottare contro un cancro contro tutte le avversità che questa malattia può portare dopo un anno e mezzo e passo di chemioterapia è tornato sui termini di gioco e questa è la riprova che comunque la lotta e il sacrificio per vincere una cosa così grave effettivamente spesso viene premiata e Trey Mancini sta venendo premiato dalle statistiche che vedete statistiche assolutamente interessanti non mi stupirei onestamente di vedere il giocatore con la maglia numero 16 degli Orioles andare allo Star Game che si terrà a Denver a luglio sarebbe assolutamente una convocazione meritata non solo dal punto di vista puramente emotivo ma anche dal punto di vista proprio prestazionale perché al di là di quello Mancini sta facendo una stagione veramente interessante ed è un giocatore appunto che dicevo prima su cui Baltimore può assolutamente puntare conclusa l'analisi dell'American League East passiamo all'American League Central dove i Chicago White Sox stanno prendendo assolutamente la scena per quanto riguarda una division che li vedeva effettivamente come i controfavoriti 33 vittorie e 22 sconfitte per la squadra di Carlos Rodon e compagni allenata da Tony La Russa che peraltro è stata anche protagonista di un episodio abbastanza discusso l'episodio è avvenuto in una partita contro i Minnesota Twins quindi rivale di division partita assolutamente stravinta parlavamo di un punteggio prima dell'episodio tanto discusso di 15 a 3 un punteggio che si vede spesso tra l'altro nei campi di slow pitch che frequento io i Minnesota Twins per diciamo rispermiare i bracci dei lanciatori di rilievo hanno mandato letteralmente a lanciare un giocatore di movimento che non era propriamente portato a lanciare Williams Astudillo in quel caso idolo assoluto non solo perché è andato a lanciare da giocatore di movimento ma proprio per la fisicità che il giocatore si porta dietro è andato a lanciare con delle palle veramente lente a 40 miglia che a livello MB sono palle assolutamente leggibili il problema è che su una di queste palle lanciate curve a 47 miglia Herman Mercedes uno dei giocatori più sorprendenti di questi Chicago White Sox e dell'intera Lega decide di fare un fuoricampo sul conto di 3 ball 0 strike e effettivamente questa cosa è stata presa abbastanza male dai giocatori dei Minnesota Twins un po' perché di solito le leggi non scritte del baseball impongono di non girare il lancio su 3 ball 0 strike un po' perché la partita era ampiamente conclusa e sul monte di lancio non c'era di fatto un giocatore professionista sul monte di lancio ma c'era di fatto un lanciatore preso dalla strada per usare un termine molto forte polemiche che sono andate avanti due giorni con tanto di critica dallo stesso manager dei Chicago White Sox che è il leggendario Tony La Russa un manager che ha vinto tantissimo con Essentials Cardinals un allenatore vecchio a scuola che effettivamente dà molta fede e molto credito al tipo di leggi non scritte del baseball polemiche che peraltro sono andate avanti più giorni con anche un lanciatore di Minnesota che nella partita dopo si fa espellere perché ha colpito intenzionalmente o meglio ha tentato di colpire intenzionalmente Hermin Mercedes e anche in quel caso La Russa ha dato ragione al lanciatore avversario rimarcando ancora una volta più volte che Mercedes ha fatto un errore da ingenuo un errore da rookie molto giovane in MLB insomma è una situazione borderline io onestamente sono onesto fossi stato in Mercedes non avrei girato per cercare di fare apposto al fuoricampo su quella situazione molti in realtà si dividono sul motivo di essere a favore di Mercedes se per caso qualcuno abbia dei commenti in merito mi raccomando esprimete con calma le vostre opinioni qui nei commenti comunque è una squadra divertente in realtà quella da vedere dei Chicago White Sox squadra che ha il giusto core di giocatori esperti storici della franchigia vedi per esempio Adam Meaton che è tornato a casa vedi per esempio José Abreu vedi per esempio sorprese incredibili come appunto lo stesso Mercedes il problema è che ai White Sox mancano giocatori importanti perché sia Luis Robert, la macchina sia Eloy Jimenez esterni potentissimi e molto forti da vedere sono in lista infortuni ma per parecchio tempo sono stati messi nell'IL60 il che vuol dire che avranno quantomeno 2-3 mesi di stop e probabilmente li vedremo a estate inoltrata seconda posizione in questa American League Central ci sono i Cleveland Indians con 30 vittorie e 24 sconfitte terzi sono i Kansas City Royals che hanno in realtà vissuto molto di rendita su questo straordinario mese di aprile che li ha visti addirittura in prima posizione poi in realtà hanno avuto un minimo di calo adesso sono delle squadre più in forma della Lega perché hanno 7 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime 10 partite e una striscia aperta di 3 vittorie consecutive quarti non sono i Minnesota Twins addirittura ma sono i Detroit Tigers squadra che da tutti era pronosticata in fondo alle classifiche della Lega nessuno si pronosticava di certo Minnesota all'ultima posizione dell'American League Central e i Twins signori possono essere sicuramente classificati come uno dei flop di questa prima parte di stagione 2021 perché una squadra col potenziale offensivo incredibile dei Twins non può occupare le ultime posizioni della classifica soprattutto perché la squadra anche a detta delle dichiarazioni della dirigenza dei Twins è stata costruita assolutamente per vincere e per vincere non si intende soltanto la division ma si intende anche arrivare più in alto possibile ai playoff i Twins per il futuro sono una squadra che sono state costruite addirittura a detta delle dichiarazioni della dirigenza appunto per vincere le World Series o quantomeno arrivarci e vederli ultimi alla stregua dei Baltimore Warriors qualsiasi o dei Texas Rangers per risultare sempre una squadra di American League fa abbastanza paura va detto che l'attacco dei Minnesota Twins è mancato e si sta un po' risollevando nelle ultime 10 partite perché i Minnesota Twins hanno accumulato 6 vinte e 4 perse nelle ultime 10 hanno perso l'ultima è vero però è comunque meglio rispetto al disastro del mese di aprile e del mese di maggio che sono assolutamente da dimenticare per la formazione delle città gemelle concludiamo la panoramica sulla American League West con la classifica che vede Oakland in testa con 32 vinte e 25 perse secondi sono gli Houston Astros a 30 vittorie 24 sconfitte e terzi il Seattle Mariners a 28 vinte e 28 perse 50% spaccato per quanto riguarda la formazione dello stato di Washington quarti sono i Los Angeles Angels che si stanno un po' risollevando dopo l'ultima posizione del mese scorso 6 vittorie 4 sconfitte nelle ultime 10 e l'ultima vittoria appunto in tempi recenti ultimi sono i Texas Rangers squadra che obiettivamente non aveva tante ambizioni alla vigilia e le sta obiettivamente rispettando ci sono però due uomini a tenere d'occhio in questa division uno non può che essere Showtime il lanciatore battitore giapponese e non ho usato queste espressioni a caso perché è Otani o di quei lanciatori che non solo lancia da Dio ma sa battere anche da Dio tanto è vero che quando non lancia gioca battitore disegnato dunque quel giocatore che in American League sostituisce il lanciatore a battere il giocatore giapponese ha queste statistiche in battuta statistiche allucinanti è il secondo miglior fuoricampista dell'American League in generale con 15 home run 40 RBI ci sono addirittura 7 basi rubate segno che comunque Shohei sa anche correre sulle basi è un giocatore veramente completo quasi anormale è considerato che oramai per lo studio e per l'allenamento che c'è nella Major League Baseball trovare un lanciatore che sappia fare anche altre cose al di là di lanciare e difendere è veramente qualcosa di sorprendente e quindi Otani è uno dei motivi di interesse per questi Los Angeles Angels che hanno fuori Mike Trout che anche lui è finito in lista infortuni ma quella da 10 giorni non quella da 60 come Jimenez e Robert in ogni caso gli Angels hanno fatto una scelta di comunque cercare di costruire finalmente una squadra da playoff peccato che manchi il monte di lancio perché come al solito è vero hanno delle stelle importanti come Rendon Mike Trout e anche Showtime il problema è che manca il monte di lancio da tempo l'ultima prestazione che ho visto è stata comunque interessante di Alex Cobb che però è un lanciatore abbastanza discontinuo così come discontinuo in generale è il monte di lancio dei Los Angeles Angels chi invece non è discontinuo ma è una grandiosa sorpresa è Adolis Garcia dei Texas Rangers che è vero sono ultimi nella American League West ma è un giocatore allucinante è il miglior fuoricampista dell'American League dopo Vladimir Guerrero e soltanto nel mese di maggio Adolis Garcia ha fatto 12 fuoricampo segno che il rookie da Cuba sta sicuramente andando a impattare tanto su questa MLB è un esterno centro dove i Texas Rangers possono assolutamente pontare inevitabilmente certo bisogna vedere come si comporterà poi a Garcia nella seconda stagione dopo che magari c'è un po' di adattamento da parte delle difese che l'hanno studiato un po' di più e quindi non è detto che queste statistiche vengano confermate però per di fatto un esordiente in una squadra comunque dove può crescere in rifondazione come i Texas Rangers avere queste statistiche è assolutamente un ottimo viatico e dunque complimenti veramente adolis Garcia che dunque chiude il mese di maggio con queste statistiche 285 di media battuta 16 fuoricampo dietro soltanto a Vladimir Guerrero Jr e 41 punti battuti a casa per la squadra texana che comunque è molto lontana dai fasti di un tempo ricordiamo che la massima aspirazione dei Texas Rangers fu una doppia finale alle World Series purtroppo entrambe perse l'ultima soprattutto in bordo sanguinoso nel 2011 contro e St. Louis Cardinals passiamo all'altra lega della MLB ovvero la National League e la prima classifica che analizziamo è quella della National League East classifica che sinceramente mi dà una gioia perché da tempo in memore io non mi ricordavo i New York Mets primi in classifica 26 vittorie e 21 sconfitte per la formazione di Luis Rojas una formazione dei Mets che effettivamente deve anche un po' come dire definirsi un po' la squadra del destino in qualche modo perché ha avuto un periodo abbastanza complicato soprattutto per una marea di infortuni che ha attanagliato la formazione del Queens sono stati richiamati tantissimi giocatori dal AAA tanto è vero che a un certo punto i New York Mets sembrava che giocassero con la squadra appunto della serie inferiore i Brooklyn Cyclones al secolo ed effettivamente in qualche modo sono riusciti a mantenere un vantaggio in una National League in generale molto competitiva e già vediamo soprattutto in questa National League East che i record sono molto inferiori rispetto all'American League East i Toronto Blue Jays che hanno un record ampiamente sopra il 50% sarebbero per esempio primi in questa division mentre nell'American League East sono addirittura quarti primi sono i New York Mets che stanno comunque facendo una ottima stagione nonostante appunto una marea di infortuni per fortuna è tornato Pitalon sulla lista di infortuni e si è infortunato anche De Grom che anche lui è tornato e appena è tornato sai vista l'incidenza che ha il lanciatore della Florida con un'altra vittoria nell'ultima partita contro i D-Pucks peraltro De Grom ha ancora la media migliore della Lega sotto il punto concesso qualcosa di assolutamente allucinante dietro i New York Mets ci sono gli Atlanta Braves con 25 vittorie e 27 sconfitte quindi addirittura sotto il 50% terzi sono i Philadelphia Phillies a 26 vinte 29 perse quarti sono i Miami Marlins a 24 vinte 29 perse chiudono i Washington Nationals campioni del 2019 con 22 vinte e 29 perse è evidente che questa National League East è quella più equilibrata di tutte assieme a parte dell'American League East e a parte della National League Central e obiettivamente anche tre quinti della National League West che vedremo dopo è sicuramente comunque la National League East una division molto a ribasso perché appunto soltanto una squadra i Mets sono sopra il 50% e se finissero primi vuol dire qualificazione diretta se tutte le altre squadre sono talmente equilibrate che se la giocano sotto un record perdente è ovvio che la wild card della National League non uscirà mai da questa division ma probabilmente potrebbe uscire dalla National League West molto probabilmente oppure dalla National League Central che tolte alcune squadre è veramente una lotta a tre una National League Central che vede i Chicago Cubs primi con 31 vinte 23 perse con 8 vittorie nelle ultime 10 partite una striscia ancora aperta di 2 vinte di fila con questa sequenza di 8 vinte e 2 perse i Cubs sono tornati primi nella division che prima era occupata dai San Luis Cardinals che comunque sono tornati finalmente una squadra competitiva i Cardinals vi ricordo sono la squadra che ha vinto più titoli dopo gli Yankees certo gli Yankees hanno vinto una marea di titoli parliamo di 27 mentre i Cardinals soltanto tra virgolette 12 31 vittorie e 24 sconfitte per la formazione del Missouri ma 5-5 nelle ultime 10 e l'ultima vittoria accumulata i sorprendenti Milwaukee Brewers sono terzi a 29-20 26 perse con 7 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime 10 ma una sconfitta nell'ultima partita è tornato comunque nei Milwaukee Brewers Christian Jelic uno dei giocatori più importanti della formazione del Wisconsin quarti sono i seasonati Reds di quel Wade Miley di cui abbiamo parlato molto tempo fa 24 vittorie 29 sconfitte per la formazione dei Reds chiudono i Pacebook Pirates che comunque stanno facendo una stagione più che dignitosa per le potenziali della squadra 20 vinte 34 perse per la formazione della Pennsylvania che comunque ha una striscia purtroppo aperta di 3 sconfitte di fila chiudiamo con la National League West una divisione sorprendente perché primi non ci sono né i Padres né i Dodgers che sono palesemente le due squadre più importanti di questa Lega e non solo a livello divisionale ma proprio a livello generale i primi sono i leggendari San Francisco Giants con 34 vinte 21 perse con 6 vinte e 4 perse nelle ultime 10 ci sono i San Diego Padres secondi con 34 vinte e 22 perse che sono addirittura davanti ai Los Angeles Dodgers che stanno avendo di sicuro la peggior stagione degli ultimi anni perché 5 vittorie 5 sconfitte stesso record nelle ultime 10 come San Diego e Colorado è veramente un qualcosa che per i Dodgers grida veramente vendetta e i Dodgers sono addirittura terzi in una division dove sulla carta e hanno dati strafavoriti visto il mega roster che hanno quarti sono i Colorado Rockies con 21 vinte 34 perse e chiudono gli Arizona Diamondbacks con 20 vinte e 36 perse è una National League West che è stata molto protagonista dei colpi di mercato in particolare c'è stato uno scambio per San Francisco e New York Yankees dove San Francisco ha dato un lanciatore in Cambia Yankees che hanno dato alla famosa di The Dance Mike Tauchman Mike Tauchman che è stato subito protagonista di una delle prese più sensazionali dell'ultimo mese su Albert Puchols giocatore dei Los Angeles Angels no dei Los Angeles Dodgers perché la notizia è che i Angels hanno tagliato Albert Puchols per di fatto scarso rendimento è bastato veramente pochissimo tempo 48 ore affinché il grande veterano dei giocatori più forti degli ultimi 15 anni di baseball in America abbia trovato un accordo e l'ha trovato con la squadra forte di Los Angeles ovvero i Dodgers subito l'impatto comunque c'è stato perché è vero che Puchols non batte più come un tempo perché le statistiche complessive tra Angels e Dodgers sono di 206 di maglia battuta 6 fuoricampo e 22 RBI anzi fuoricampo in realtà sono 8 gli ultimi due appunto con la maglia dei Los Angeles Dodgers ed è di fatto quello il motivo per cui Puchols è stato chiamato un giocatore che magari non può incidere spesso da titolare in National League magari può usare più il ruolo del pinchitter ma comunque è un giocatore che il talento non l'ha mai perso e la potenza la può sempre mettere Puchols è stato appunto anche il protagonista di questa battuta molto profonda in una partita allucinante tra Giants e Dodgers con i Dodgers che prima erano sotto di 3 punti la pareggiano con il fuoricampo di Austin Bars appena dopo arriva Puchols che sta per spatterla fuori Tauchman poi fa una presa sensazionale sopra il muro all'esterno sinistro e nega il fuoricampo a Puchols che poi in realtà arriverà a perdere la partita insieme ai suoi Dodgers perché i Giants poi all'extra inning vincono 6-5 comunque già il fatto che Puchols abbia comunque trovato una ulteriore squadra che dia comunque il suo contributo a 41 anni suonati è assolutamente ancora una volta un bel messaggio per il meraviglioso gioco del baseball così come un bel messaggio per il meraviglioso gioco del baseball le prestazioni di Ferranotatis Junior e il nino sta facendo veramente quello che vuole nella formazione dei San Diego Padres che veramente è a un passo dal primo posto nella National League West gli manca ancora probabilmente quel quid in più per fare il salto di qualità in generale alla formazione di San Diego sicuramente non manca nulla a Ferranotatis Junior che ha delle statistiche veramente allucinanti 293 di media battuta lo vediamo 16 fuoricampo e 37 punti battuti a casa è il secondo miglior fuoricampista della Lega insieme ad Adolis Garcia ed è il primo della National League peraltro Tatis non ha neanche giocato tutte le partite perché spesso è stato o infortunato oppure fuori per Covid e questo rende ancora una volta giustizia alle prestazioni del giocatore della Repubblica Dominicana se Tatis fosse integro al 100% per tutte le partite avrebbe statistiche ancora più importanti e San Diego non sarebbe nella posizione in cui è ma sarebbe ampiamente prima compice appunto la stagione deficitaria che stanno avendo i Dodgers ricordiamo appunto ancora una volta che San Diego è sopra di una partita in mezzo rispetto ai Dodgers ed è appena dietro ai San Francisco Giants balla una sconfitta tra le due formazioni abbiamo parlato di bei messaggi non è un bel messaggio per chiudere quello di Marcello Zuna perché il giocatore degli Atalanta Brave è stato arrestato in tempi recenti la notizia è del 30 maggio con l'accusa di violenza domestica purtroppo non è il primo caso di arresto per violenza domestica ce ne sono molti di più negli sport americani tipo l'NFL meno in NBA ce ne sono stati alcuni anche in MLB vedi per esempio il caso che successe a Odube Lerrera esterno centro dei Philadelphia Phillies è stato arrestato per appunto violenze ripetute alla compagna e questo è un qualcosa di clamoroso per Atalanta perché non solo rischia di perdere un giocatore per questa stagione ma la sospensione potrebbe anche aggravarsi evidentemente anche per quanto riguarda le stagioni a venire perché di solito come vediamo qui da quando la MLB ha applicato una politica molto stringente per le punizioni per violenza domestica la sospensione può andare a un massimo della pena di 162 partite quindi di fatto un anno intero considerato che molto probabilmente la sospensione arriverà in questa stagione in corso Osuna sconterà la pena anche nella stagione prossima a me sono concesso che la pena sia il massimale ma è capitato spesso che appunto per violenza domestica la MLB applicasse politiche veramente rigide peraltro la MLB ha già aperto un fascicolo Osuna comunque è stato arrestato nel giorno 30 maggio è stata segnalata appunto una aggressione o un episodio molto sfavorevole alle 12 e mezza del 30 di maggio si vedeva comunque che c'era qualcosa che non andava nell'appartamento di Osuna è intervenuta la polizia di Sunday Springs Georgia ed è provveduto all'arresto del giocatore sudamericano degli Atlanta Braves che comunque già era infortunato di suo e quindi non stava giocando con la Atlanta Braves ma questo è probabilmente un segno inequivocabile sulla carriera di Osuna purtroppo in negativo concludiamo questo Major League Baseball Review questo episodio del mese di maggio con le statistiche offensive e difensive come nello scorso video partendo dalla media battuta gli Houston Astros sono la migliore squadra della Lega con 267 di media battuta seguono i Toronto Blue Jays i Boston Red Sox e i Chicago White Sox tutte di American League la miglior squadra per quanto riguarda la parte offensiva sono i Washington Nationals per la National League ed è incredibile che a fare questa statistica sia la squadra ultima nella National League West sarà meno però sorprendente quando vedremo le statistiche difensive dove i Nationals sono obiettivamente in fondo così come sono in fondo i New York Yankees sul Monte di Lancio e i Detroit Tigers che obiettivamente dopo l'expload di Turbo sono tornati nei ranghi i Cleveland Indians sono terzultimi come attacco ma hanno comunque un Monte di Lancio veramente sontuoso in particolare con Shane Bieber Milwaukee Brewers sono 29esimi e 30esimi sono i Seattle Mariners chiudiamo con le statistiche difensive e partiamo dalla media IRA guadagnata di squadra i San Diego Padres hanno un Monte di Lancio di livello non solo hanno giocatori fenomenali come Tattis Junior è un attacco molto molto interessante ma hanno il miglior Monte di Lancio della Lega secondi sono i New York Mets che comunque stanno veramente risollevando un aspetto del gioco molto importante ovvero il Monte di Lancio che è stato sempre negli ultimi anni un po' il loro talone d'Achille i New York Yankees compensano un attacco deficitario con un Monte di Lancio molto importante con la terza posizione astruta con 3,18 punti concessi appena dietro ci sono i Los Angeles Dodgers a 3,19 e chiudono i Chicago White Sox a 3,29 le ultime posizioni del Monte di Lancio di squadra le occupano i Colorado Rockies che sono 25esimi con una media di 4,72 ma il Monte di Lancio dei Rockies non è stato di certo il fattore degli ultimi anni ci sono i Pittsburgh Pirates che sono 26esimi gli Arizona Diamond che sono 27esimi chiudono i Baltimore Orleans che sono 28esimi segno che dietro John Minson in realtà c'è molta poca roba i Los Angeles Angels si confermano uno dei monti di lancio peggiore della Lega e sono di fatto 29esimi non sono ultimi perché ci sono i sessi nati Reds ultimi a 5,04 segno che anche qui la prestazione di Wade Miley fu un mezzo exploit e poi dopo la formazione dell'Ohio è tornata assolutamente nei ranghi in ogni caso questa era la Major League Baseball Review del mese di maggio ci sono state tante cose da dire infatti il video è venuto veramente lungo ma comunque c'era bisogno di raccontare quello che è successo dentro e fuori dal campo fatemi sapere che cosa ne pensate iscrivetevi se il video vi è piaciuto e condividetelo nei vostri gruppi e ai vostri amici il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo domenica per il primo post gara della Formula 1 che riguarda il Gran Premio di Baco Azerbaijan di Bajan di Bajan